E' lo storico preseggente Enrico Luccherini il protagonista della prima puntata del nuovo anno di Effetto Notte. E' da lì che ho capito che i protografi sarebbero stati dei miei alleati. E poi Monica Bellucci e Fabio Di Luigi raccontano il film La Befana viene di notte 2. I bambini hanno bisogno di sognare. E ancora il regista iraniano Ashgar Faradik, premiato a Cannes, è in corsa per l'Oscar con il film Un Eroe. Effetto Notte, venerdì alle 23.15. Grazie a tutti.